Con la pala, il berretto e il giaccone. Archiviati dalla neve e le pinne, il fucile e gli occhiali, metà degli Stati Uniti sono in questi giorni impantanati da un meteo inclemente che sta rovinando a milioni di americani il weekend del ringraziamento. Vacanze saltate, rientri precipitati e ritardi che all'axe l'aeroporto di Los Angeles hanno portato a lunghe code e attese di ore. Sul banco degli imputati, le piogge su buona parte della California che stanno facendo sbiadire il sogno di un felice ringraziamento. C'era sicuramente molto traffico, tanta gente attaccata ai clacson e poi ho visto anche parecchi incidenti. Parole a cui fai con una residente nell'entroterra californiano. Una follia ci ho messo più per raggiungere l'aeroporto che per arrivare a Los Angeles. Riposta insomma la valigia dei sogni, quelle al nastro restituiscono vacanze da incubo. Oltre 3 milioni solo nel weekend i viaggiatori che sono attesi e che passeranno ore ad attendere in questo aeroporto.